Roberto Vecchioni per Bonpiani di recente pubblicato Canzoni, che personalmente un libro che ho apprezzato, sto apprezzando molto, non fosse per la tua prosa, che trovo sempre affascinante, ma anche per l'anannesi, le funzioni, il senso che il pezzo chiuso, la canzone ha avuto nel corso della storia. E poi non voglio dimenticare che sono anche apprezzabili i contributi importanti dei tuoi sodali, gli Aki e i Germini. Però voglio iniziare con una piccola provocazione. La canzone, quella che ci ostiniamo a chiamare anche impropriamente canzoni d'autore, in quest'epoca sta segnando un po' il passo, da quanto ci dicono, da quanto sentiamo. Il senso di questo libro, allora, qual è? Beh, l'osservazione è giusta, hai fatto un'osservazione giusta. Cioè, è un momento di transitoria nebbia, per la canzone cosiddetta d'autore, detto bene cosiddetta perché è un termine orribile questo. Ma è perché è un momento telematico, è un momento di velocità, di speed, tutto deve arrivare e venire subito. Quindi in questo momento la canzone è il perfetto specchio di come agisce la società, soprattutto tra i ragazzi. Vedi che la canzone tra i ragazzi è qualcosa di momentaneo, di rapido, i termini sono quelli, 300-200 parole in tutto, espressività ridotta al minimo, all'osso, basta amore o odio, il resto non si capisce bene che cosa sia. Ma questo avviene anche nel cinema, avviene anche nel teatro, avviene anche nel giornalismo, avviene ovunque, perché è un periodo di lezio brevis, cioè un periodo in cui tutti quanti sintetizziamo. Nel senso dell'analisi, del guardare in largo, era più degli anni 70, 90, insomma è un po', si è dismesso in un certo senso. Ma non è sparito, e questa è la cosa più importante di tutto, perché esiste sempre sotto traccia la nobiltà della parola, la nobiltà della musica, sarà probabilmente diminuita in senso quantitativo, però la qualità delle persone che ascoltano e seguono è ancora alta. Io credo che non morirà mai questo modo, si è detto di tante cose nell'arte, nel tempo, morirà questo modo di fare pittura, morirà a questo modo di fare poesia, non è mai morto invece, si è trasformato, non parliamo di meglio o peggio, perché sono cose, concetti, si è trasformato secondo le esigenze del progresso, delle situazioni, della vita, del modo di cogliere le impressioni, ma è rimasta sempre qualche sacerdote di questa cultura bellissima, secondo me, della comunicazione larga, ampia, in cui per fortuna le sfumature contano quasi di più della notizia. C'è un senso anche di politica in questo libro e nel messaggio, tra virgolette, sempre tra virgolette, che vuoi proporre attraverso l'analisi della forma canzone, di alta politica. È un valore ancora importante, la canzone, è ancora uno specchietto torna sole, come scrivi, tra queste dense pagine della società di riferimento. Io ho sempre avuto l'impressione che la canzone sia stata considerata pochissimo nell'ambito culturale, ogni tanto salta su qualcuno da qualche università, in qualche modo, che dice la canzone conta, conta per questo, conta per quello, ma in generale la canzone è presa come un divertissement giornaliero, la senti e non la senti in radio, in macchina, te la metti sopra la tua macchinetta e te la ascolti quando vuoi, ma non è considerata come un grande film, un grande romanzo, una grande sinfonia. È sempre una piccola ancella delle situazioni quotidiane, il che è completamente falso, perché non c'è niente come la canzone, dall'antichità ad oggi, che abbia portato per mano un uomo, o meglio, l'uomo è stato portato per mano da questa canzone e l'ha riassunto se stesso, le sue azioni quotidiane, anche quelle meno ecclatanti, meno importanti, quelle di tutti i minuti, di tutti i giorni, nella canzone. E ha espresso nella canzone l'immediatezza del sentimento, cosa che non è immediata nelle concubrazioni dei romanzi e delle sinfonie, che saranno più alti, più grandi. Certo, Macbeth racconta cose eccezionali, la nona di Beethoven pure, ma la canzone racconta le cose non eccezionali, quelle che ti capitano comunque e sempre. Ha bisogno di essere considerata molto di più di quello che è considerata. Io credo che verrà il tempo in questo senso, per quanto oggi sia parecchio considerata da noi, da te, da un sacco di gente che conosco e anche questo sigillo gli va bene. Io non posso pensare a un novecento o anche a primi anni duemila senza un De Andrè, un Guccini, parlo solo d'Italia, d'altronde è stato dato un Nobel ad Ilan, insomma qualcosa varrà in questo senso. Però c'è sempre questo tallo, questa specie di peccato ancestrale per cui la canzone fa ballare, fa divertire, fa qua, fa là, l'amore si perde, l'amore si trova, poi l'amore è sempre in mezzo nelle canzoni per cui si pensa che le canzoni devono parlare solo d'amore, invece no, ci sono tantissimi altri argomenti. La canzone è un diario della nostra fatica quotidiana che porteremo magari a Dio oppure ci terremo noi o passeremo ai figli, ma è un diario importante, fondamentale, è storia, è la storia nostra, d'Italia e del mondo. Ma questo difetto di cui ci stai parlando mi sembra molto più tipico della cultura italiana che non di altri luoghi in cui la canzone vanta uno status importante. È un difetto italiano perché noi siamo abituati, innanzitutto perché la canzone italiana di valore è arrivata un po' tardi, perché la canzone italiana non si è mai confrontata con quella popolare, perché in altre zone, nell'est per esempio d'Europa, fondamentale la canzone, in Francia non parliamone, la canzone è considerata alla pari della poesia da sempre, ed è anche giusto perché hanno avuto i Breglias, Naur, ma anche prima una storia meravigliosa di cantori contro il potere già dal Settecento nell'Ottocento. In Italia, anche quella storia fa la canzone. La storia d'Italia è stata molto incasinata, sinceramente. Siamo arrivati tardi al romanticismo, tardi all'espressionismo, tardi anche alla costruzione di un'Italia, la Francia era già Francia, la Germania era già Germania, l'Italia è arrivata ad essere Italia, forse non è ancora arrivata ad essere Italia, ma è con grande fatica e quindi non c'è un senso nazionale del modo di cantare e naturalmente questo ha contribuito a molti errori. Poi siamo degli grandi importatori noi, cosa che non avviene tantissimo altrove, in Francia e in Inghilterra non avviene. Noi invece importiamo dall'America tantissimo, dall'Inghilterra pure, anche dalla Francia. Per tanto tempo abbiamo considerato la nostra canzone imitativa di questi generi, invece no, esiste una canzone italiana che è uscita nel mondo e per quanto fosse sia stata anche un po' retorica o esagerata o romantica, beh ha imposto le melodie, perché la canzone non dimentichiamoci che viene dalle grandi melodie dell'opera, da Puccini soprattutto, e quella conoscono in tutto il mondo e non dobbiamo nemmeno vergognarcene, perché siamo dei inventori, noi e i napoletani, della grande melodia. Nel mondo non si riesce a fare una melodia all'altezza espressiva, anche un po' barocchina se vogliamo, ma espressiva di quella italiana e dovremmo essere orgogliosi di questo. Roberto, leggendo canzoni scopriamo di volta in volta, pagina dopo pagina, cosa può essere una canzone, con tutte le sue sfaccettature, come fosse davvero un diamante, un prisma che brilla come lo tocchi, lo volgi, lo rigiri, eccetera. Ma volevo chiederti, qualche tempo fa parlavo con un tuo collega, Ermal Meta, e discettavamo sul senso della canzone, cos'è una canzone, e siamo arrivati a stabilire, tra vi dico per quanto si possa stabilire, questa piccola grande verità, che la canzone può essere un'eccedenza spirituale, che tu non puoi trattenere, devi condividerla. Sì, sì, sì. Non è tanto eccedenza spirituale una poesia o un quadro, perché in realtà lo fai moltissimo per te. Invece la canzone ha proprio questa caratteristica, non me la tengo più dentro. È così. Ma davvero succede così, per chi le si? Sì, sì. Devo dire di sì. Ha accolto perfettamente nel segno il mio collega. È veramente così. Ci sono momenti nella vita in cui non basta scrivere, non basta assolutamente mandare segni a te stesso, devi mandare fuori, come fossero respiri, come fossero sospiri. Qualcuno li coglie, qualcuno li prende, qualcuno li fa suoi. Non sai chi è, perché quando hai il pubblico davanti lo sai, perché arriverà quello che sto dicendo. Quando fai un disco, per esempio, non sai chi ascolterà, chi non ascolterà. Però sai benissimo che quello che avevi detto era urgente. È un'urgenza. Era urgente mandarlo fuori. Ora uno si chiede, ma perché quello lì ha urgenza di mandare fuori delle cose? Ma perché si vive così? La vita non è tenere dentro, la vita è buttare fuori. È assolutamente far partecipare gli altri in maniera paritaria di quanto sia bello o brutto il mondo in certi momenti. E come lo senti? Dicendo forse, suggerendo agli altri, provate a sentirlo un po' come lo sento io. Oppure spiegatemi come lo sentite voi, che io ripropongo in canzone, che è il modo più bello per essere accomunati. Questa è stata la fortuna della canzone sempre. La fortuna in ogni tempo, in ogni momento, dal punto di vista popolare, intendo. Non dal punto di vista critici o altro, come abbiamo detto prima, che è sempre stata considerata un'ancella della poesia. No, invece è stata popolarmente importante per questo, perché accomuna i sentimenti. Sai, io a volte scrivo canzoni, tu mi conosci benissimo, scrivo canzoni complicatissime. Dentro una canzone ce ne sono quattro o tre. Ma hanno una ragione di esistere quelle forme, quelle posizioni che prendo io. Non mi curo particolarmente del pensare, capiranno tutto. Perché la canzone è un modo di sentire, non di capire. Qualcuno verrà in mente, ma guarda, si passa da questo ambiente a quest'altro, a quest'altro. Ci sarà una ragione. E lentamente nella mente probabilmente verrà in mente questa ragione. Sono canzoni spiegabili. quella della signora Blu è spiegabile. L'ultimo spettacolo, per chi non conosce un po' il classico, è del tutto spiegabile. Due giornate in Fiorentina che arriva il benzinaio a un certo punto, non si capisce perché. Eppure hanno un senso tutte. Ci sono delle metafore dentro che aiutano a fare una cosa importantissima. Cioè uscire dall'ovvio, dalla mediocrità, dalla cosa già scritta, già sentita, già detta. Sforzati di capire che il mondo è fatto, che la cultura è fatta di passaggi da un campo all'altro, da un campo all'altro. È un collegamento continuo di cose. La bellezza della cultura è quella. E non sapere, ma saper muoversi fra le cose. E quindi io credo che tutta la mia vita sia stata canzone. Non c'è un evento della mia vita che non sia diventato canzone, perché me lo dovevo stampare, dovevo ricordarmelo. E qui sta il senso, il fatto che anche tu mi hai detto prima, a volte risento i tuoi pezzi, risento le canzoni e capisco qualcosa di nuovo. Il bello è anche lì, questo gioco intellettuale e sentimentale di capire poco alla volta e di capire dopo. Quando poi c'entri il cuore di una canzone, allora è tua, veramente tua. E senti che doveva essere così. E ti viene un attimo di ottimismo. C'è qualcuno come me. Dunque, adesso mi hai spiegato anche la seconda parte di canzoni, dove oltre 22 canzoni, 22 i tuoi pezzi chiusi sono, tra virgolette, analizzati, lo dicevo, dai sodali che hai scelto in questo viaggio, Iachia e Germini. E io mi stavo chiedendo, ma me l'hai già forse spiegato, dare a terzi la possibilità di analizzare le tue canzoni, dunque analizzarti anche, significa condividere una propria intimità. Non è evidente questo? Sì, però questo libro, a parte tutta l'introduzione che ho fatto io per spiegare come ho amato la musica, quanta musica ho frequentato, tutta, jazz, musica leggera, sinfonica, canzonetta da quattro soldi, tutto ho frequentato. Ma poi la costruzione di questo libro è venuta da lezioni universitarie che ho ottenuto. E non mi pareva bello spiegare io le canzoni, mi sembrava un atto di superbia, vuoi dire, non avete capito niente, adesso mi spiego io. No, anche perché non c'è bisogno di spiegare le canzoni, non ci sarebbe bisogno di spiegarle. E allora è intervenuto un semiologo, un mio amico che aveva già scritto due libri su di me, e io ho fatto lunghe interviste con lui, ho parlato a lungo con lui e lui ha costruito in terza persona, perché non potevo dire io mi spiego che Velasquez è questo, no, lui ci dice che Roberto intendeva dire, quindi è tutto mio ma in realtà è lui, è Paolo Giacchia e per la musica Germini che riflettono il mio pensiero. Quindi non c'è niente in questo libro che non sia vero, nel senso che non è interpretazione, è quello che io ho veramente pensato e che loro, questi due grandi personaggi, due grandi persone accolte, hanno trasmesso con le loro parole. E si evince pure che molte delle tue canzoni della tua produzione si affidano al doppio, al dualismo e al mito, sono due cifre stilistiche importanti tue. E il dualismo per esempio in molte canzoni mi ha fatto riflettere, perché lo scrivi, e mi son detto wow, quanto è importante la contraddizione per l'essere umano e per la propria vita. Il tema fondamentale sai questo? Quasi il 50% delle canzoni mie, perché io non penso di essere unico, sicuramente penso di essere come Lying dice, avere un io diviso, certo non in modo morboso, non come malattia, ma come natura, perché in natura siamo portati a due scelte sempre, o avventurarci, arrabbiarci, incazzare, oppure a malinconirci, metterci silenziosi da qualche parte. Questi due avvenimenti, la lotta e il riposo, sono dentro di noi, a volte combattono fra di loro, a volte prevale uno, a volte prevale l'altro. Sono simboli che sono rappresentati all'inizio, nelle mie canzoni, dagli occhi di Alessandro Magno, che Alessandro Magno aveva un occhio scuro e un occhio chiaro, è vero, è storico, e il grande poeta Pasquoli dice che con l'occhio scuro guardava indietro verso il passato della sua infanzia e col chiaro guardava in avanti verso l'avventura. E qui siamo fatti così. In quasi tutte le canzoni ho messo un me stesso e un altro me stesso, che si combattono tra loro, oppure diventano amici, in 1099, in Arthur Rimbaud, dentro gli occhi, ce ne sono di tutti i tipi, perché è il mio tema preferito, è questo rispecchiarmi e vedermi. Dorian Gray che non invecchia, non voglio invecchiare in quel quadro, voglio vedermi sempre e essere presente a me stesso. Il tema del doppio mi aiuta a sollevare un sacco di questioni, tantissime. Il doppio c'è anche nella mia vita tra amore e lavoro, pazzesco, un doppio pazzesco, perché il privato e il pubblico, per un artista, sono un massacro. Massacro! Ma di tempo, di spazio, di animosità, di cuore, di cose da dare, io do la vita quando mi metto a scrivere, do la vita, il resto del mondo non c'è, ci sono io, la stanza, non so nemmeno sei giorni o notte, ho soltanto le parole che vanno, vanno e vanno e continuano a girare finché le scrivo. Perché non è che le scrivo e dico cosa scrivo dopo? No, me le immagino nella testa, chiudo gli occhi e arrivano le parole, allora quando le ho già più precise le scrivo. Ma quello che succede, non lo so, può cadere una bomba, non lo so, nessuno mi bussi alla porta per dire c'è da mangiare, perché non esiste, è così, gli altri non so come fanno, non so, io faccio così, la canzone è veramente come hai detto tu, un'esigenza assoluta, quando ti arriva è quello che è, vedi che stiamo parlando di canzoni nel senso, chi li do io nel libro, la canzone è come verità, la canzone è come coerenza della tua vita, non stiamo parlando di canzonette, canzonette le scrivo anch'io, lì non mi chiudo da qualche parte, mangio e come, bevo, magari sento anche altra musica, ma quando si va nella canzone che è la vita, la tua vita, allora no, allora la cosa è seria, la cosa è importante, se sbaglio una parola, hai rovinato una canzone, sai che Hemingway, che scrivevamo ovviamente o a macchina o a mano, non aveva computer, se faceva un errore in un foglio, non lo cancellava, rifaceva tutto il foglio, non voleva vedere una nacchia nera sul foglio, e questo è il principio della canzone, se io faccio un errore in una canzone, non dico rifaccio tutta la canzone, ricanto tutta la canzone, perché senza quella, con quello sgorbio lì non mi andava di andare avanti, c'è stato un caso stranissimo, in una canzone che si chiama «Ma che razza di Dio c'è nel cielo?», che ho fatto con Pagani nel 2002, credo, nel 2003, che io ho messo un aggettivo che al momento mi sembrava giusto, abbiamo inciso tutto quanto, quando era già tutto inciso ho fermato tutto per cambiare un aggettivo, l'ho ricantato un aggettivo, spendendo un sacco di soldi naturalmente, ma non mi andava quell'aggettivo, vedi com'è, deve essere perfetto a quello che, la coerenza di quello che hai in testa, deve finire la canzone. Sai che guardandoti adesso e sentendoti parlare, e vedere anche la tua mimica, il tuo linguaggio del corpo, si vede di come quanto tu sia ancora oggi innamorato e goloso di musica e di canzoni. Assolutamente, ormai andiamo verso gli 80 anni, ma per gli 80 anni ho un bel regalo, perché penso di fare un disco totale, cioè un album, te lo rivelo qua, ma tanto lo rivelerò anche a qualcun altro, quindi, a parte canzoni nuove, 7-8 canzoni nuove le farò, soprattutto voglio fare una sezione dedicata all'antichità, con canzoni che ho già scritto o che non ho mai editato sul mondo classico, e poi voglio cantare una quindicina di canzoni di altri che a me piacciono tantissimo, e non devono essere per forza canzoni d'autore, canzoni che mi prendono tantissimo, voglio cantare tutte alla mia maniera, ce ne sono, di bellissime, anche di persone sconosciute, anche dello stesso Modugno, non una canzone nota di Modugno, una canzone completamente sconosciuta che si chiama Ebbeno Sole, bellissime, per dire, di De Gregori, non una canzone delle sue più famose, ma Renoir, che è una canzone piccola, piccola, che è di una meraviglia straordinaria, ecco mi piace questo vezzo di fare una quindicina di canzoni che per me rappresentano tantissimo nella mia vita, questo lo farò, hai ragione, ho fame nelle canzoni. Hai usato il termine di antichità, non ti riferivi al mito, ma voglio tornarci perché oltre al dualismo di cui dicevamo, da sempre una delle tue caratteristiche principali è l'utilizzo dei miti anche nella canzone per spiegarci gli archetipi sostanzialmente. Sì, beh, quello l'hai già spiegato tu, cioè il mito non è gli dèi che si cazzano l'uno con l'altro o quello che salva, o quello che fa il dio dell'agricoltura, il dio del cielo, i fulmini, quelle sono per bambini quelle storie. Il mito è qualcosa che abbiamo dentro, che è immortale, che è tramandato con il DNA, cioè sono le paure, i ricordi ancestrali che non sfuggono mai da noi, sono quelle verità che abbiamo dentro, che si chiamano verità naturali, che abbiamo dentro e che ci vengono dal passato antichissimo, da questa ricerca antichissima. Poi si sono trasformati nelle mitologie, nelle religioni varie in figure, in persone, ma in realtà sono nostri sentimenti, i nostri modi di pensare il mondo. Per me il mito è fondamentale perché con un esempio prendo mezza umanità, se invece vado a parlare di persone sconosciute non riesco ad attuare l'identificazione dello spettatore, dell'ascoltatore. Se io parlo di un grande scrittore o di un grande pittore o di una grande divinità pagana o di un bellissimo racconto della litologia antica, faccio capire come è nato l'amore, come è nato l'odio, come è nata la paura e più precisamente faccio capire perché siamo molto simili alla follia di Van Gogh o alla scontentezza continua di Rimbaud, perché sono come hai detto tu degli archetipi, cioè i primi ad aver comunicato, i primi o i massimi ad aver comunicato questo tipo di sentimento. Ci vado dentro, lo so che non è sempre semplice, però io il mito lo semplifico, non è che sia un accademico quando lo metto in canzone, lo faccio più semplice, più rapido e poi mi serve, mi fa bene, perché quando scrivo sul mito mi sento a casa mia. Cosa ha significato per te crescere con una generazione di autori straordinaria, quella che parte dagli anni Sessanta e arriva agli anni Settanta, citiamo i De Gregori che citavi, De Andrè Francesco, ce ne sono tantissimi, non li nominiamo. Cosa ha significato per Roberto Vecchioni? Vivere in quell'epoca, scrivere e cantare in quell'epoca? Sì, è un'esperienza meravigliosa, è un rinascimento. Hai vissuto un rinascimento intellettuale e artistico? Il rinascimento, certo non posso fare il paragone con Raffaello, Leonardo eccetera, quella è un'altra storia grandiosa dell'umanità, però è un piccolo rinascimento, piccolo rinascimento perché si è improvvisamente capito che la canzone doveva uscire, evadere dalla prigionia in quest'ala, i primi che l'hanno capito sono stati i genovesi, Paoli, Tenko, che oltretutto sono stati dei cantatori a modo loro, nel senso che il linguaggio di Paoli e Tenko è semplicissimo, non hanno metafore compresse, però parlano finalmente, cantano come parlano, come si parla, come si mangia, l'amore non è eterno, succede che il pregno mi botte ogni giorno, il dolore c'è e come? E non è colpa di questo o di quello, è esistenziale, ce l'abbiamo dentro e Paoli e Tenko queste cose le hanno dette per prima, poi sono arrivati gli intellettuali, certo Buccini, De Gregori ha cambiato il linguaggio completamente, grande merito, perché l'ha reso novecentesco, espressionista, non ti ho parlato di Modugno perché era anche inutile, Modugno è l'inizio di tutto e poi sono arrivati tutti i proseliti naturalmente, anche grandi personaggi, per esempio uno che amo bruttissimo è Fossati, per me è geniale in certe sue costruzioni, uno sforzo incredibile di tutti per dare una nobiltà a questo genere, che oltretutto ha avuto successo, perché in realtà se Dylan è arrivato a Nobel è merito anche di tutto quello che si è costruito, lì avrei da ridire, Dylan conosce un decimo delle parole che conosceva De Andrè, forse un centesimo e forse anche le tematiche di Dylan, sono quelle tre o quattro, De Andrè ne aveva cinquanta, per quanto parta da una sola contro il potere, però poi lo divaga in una maniera incredibile, De Andrè è un Nobel, Dylan un po' meno. Ma se ricordo bene che il tuo nome fu accostato al Nobel? Sì, però erano pazzi completamente secondo me, non esisteva proprio la cosa, però è bello sentirlo dire, certo ero forse quella migliaia di persone prese in considerazione, un migliaio, poi forse sono arrivati due o trecento, poi sono sparito, giustamente perché non era nel tempo o nel modo, ma anche giustamente per un'altra cosa, perché nessuno mi conosce veramente, cioè fu perché vissi Sanremo con una canzone molto universale di sentimento, ma sicuramente non una delle canzoni che io ritengo migliori delle mie, ci sono tantissime altre cose che nessuno conosce, soprattutto fuori d'Italia. Roberto, per congedarti e congedarci, tu racconti l'anamnesi, la storia della canzone, vengono analizzate molte delle tue con perizia, con grande interesse, ma per Roberto Vecchioni in fin dei conti la canzone cos'è? Beh, voi non immaginerete mai che cos'è per me, per me è un'autopsicanalisi, è liberarmi, è una liberazione, concordo un po' con quello che abbiamo detto dentro, beh prima, se me la tenessi dentro starei male, ho bisogno di questo sfogo, è uno sfogo essenziale e molte volte questo sfogo coincide con i pensieri degli altri, altre volte no, altre volte è uno sfogo proprio personale, me ne rendo conto, ma non è che si può essere sempre lì a scrivere canzoni per gli altri, vabbè lo 70-80%, però ci sono cantucci, luoghi, angoli in cui puoi scrivere anche per te, e mi sembra che sia giusto, è il senso della propria libertà che abbiamo fuori, se qualcuno intende quello che sto dicendo, bene, se no almeno mi sono liberato io, è quello contava. Roberto, grazie mille. Grazie a te.